Con Ivan Maltredi, protagonista di giornata, vittoria per 2 a 0, Ivan è arrivato da poco in Italia, è tornato dagli studi universitari, al 27esimo è entrato e al 29esimo è in gol. È stata una partita complicata, sono stati bravi a votare fino alla fine, poi è arrivato questa squadra, è frecciato, è andato bene, è arrivato e è arrivato, è arrivato, è arrivato e poi è successo. Quindi la vittoria è importante perché è la quarta di fila, contro una squadra che era davanti a noi di 6 punti, la classifica comincia a sorridere molto di più rispetto a qualche mese fa. Siamo arrivati un po' fuori, è una situazione che non è semplice, ora andiamo a peggio la settimana prossima, mi pare che siamo a po' di punti, quindi sarà una partita di peggio tantissima e cerchiamo di realizzare questa squadra di certezza. Invece dal punto di vista personale, i tuoi propositi da quella fine del campionato? Io cercherò di dare una mano alla squadra, soprattutto per questo, perché mi ristrazione e magari buttarla dentro ancora qualche volta. Ok, grazie Iva.